Sono Michele Zazza, sono uno studente dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Sto frequentando la Facoltà di Informatica Magistrale ad Unimore e sto facendo il tirocinio proprio per concludere il mio percorso di studi ed entrare nel mondo lavorativo. Il tema della mia tesi consiste nel trasformare l'applicazione Proof of Delivery da una normale web app ad una progressive web app. Le progressive web app sono una nuova tecnologia che permette di unire le feature di una tradizionale web app e quelle di un'applicazione nativa mobile, come ad esempio appunto la possibilità di usufruire dell'applicazione dal telefono come se fosse un'app nativa, la possibilità di avere una modalità offline per quando manca la connessione ad internet e anche la possibilità di avere un servizio di notifiche. Il mio tirocinio ha avuto una durata di circa 700 ore in un arco temporale di all'incirca 5 mesi complessivamente, poiché è un tirocinio di una laurea magistrale. Ho quindi avuto modo di vivere la realtà aziendale di Replica Sistemi, di passare molti momenti, soprattutto di lavoro, ma anche momenti di festa, come ad esempio la festa di fine anno, e quindi ho avuto la possibilità di vivere la realtà lavorativa a 360 gradi. Nell'ambiente Replica Sistemi mi sono trovato subito molto bene. L'ambiente accogliente, un ambiente stimolante, ricco di persone competenti che hanno voglia di aiutarti e di farti crescere professionalmente e personalmente. Nel mio futuro vedo per me la possibilità di poter fare un lavoro simile a quello che ho fatto durante questa esperienza di tirocinio e per il fatto che comunque come esperienza mi è piaciuta molto e anche il lavoro in questione. Grazie. Grazie.